Guardate la velocità di questo router 5G con sim veri mobile da pochi euro Ho trovato tra virgolette un router 5G 4G economico Stufo delle prestazioni dei router 4G deludenti Ho preso questo Huawei 5G CPE 5S con queste caratteristiche Ovviamente con wifi 6 dual band Purtroppo quelli con wifi 7 sono ancora troppo costosi E questo ha un ottimo rapporto qualità prezzo Prima di iniziare ti ricordo di seguire il canale di offerte Telegram Dove pubblichiamo anche router in offerta e non solo Oppure scaricare l'applicazione Mr. Coupon da iPhone o Android Che risulta molto più veloce e facile con circa 50 offerte al giorno Con anche uno storico prezzi Oltre al router e il QR code per scaricare l'applicazione Esce l'alimentatore e un cavo Ethernet Per router 5G se li andate a cercare su Amazon o altri profili Ci sono davvero tantissimi prodotti Ho cercato qualcosa che non mi costasse tantissimo Perché se si vuole anche per una casa in montagna o una casa al mare Si può fare anche qualcosa di sofisticato con antenna esterna Sono voluto rimanere comunque nel budget di 200 euro E questa mi sembrava la migliore soluzione Anche perché come potete notare Il prodotto oltre ad essere molto leggero Ha questa configurazione a torretta Dove tra l'altro il produttore indica anche un'antenna a diegain Adesso vi faccio vedere dopo le prestazioni sia in wifi e sia della ricezione 4G e 5G Che sono ottime Il router Huawei come anche altri router Huawei che sono molto popolari e molto venduti Sono davvero semplici da utilizzare Perché non c'è bisogno di fare inizialmente una configurazione forzata Quindi anche la persona poco esperta può inserire semplicemente dallo slot qui sotto la nano sim E lui in pochi secondi avvierà la configurazione e già sarete pronti ad accedere Tra l'altro sotto sono indicati tutti i parametri del nome wifi, password e anche un QR code per accedere velocemente Ovviamente anche qui vi riporto le frequenze supportate da questo 5G Praticamente potete metterli qualsiasi sima voi vogliate Una volta collegati al wifi potete accedere tramite HTTP Oppure dovrebbe essere 192.168 Dopo andiamo a verificare Ma la migliore soluzione è scaricare l'applicazione iLife Che è trovata sullo store per Android e per iOS Apparirà automaticamente il dispositivo E l'applicazione Huawei non solo per questo dispositivo ma anche per l'arte è davvero completa Tra l'altro lui è riuscito a proiettare quella che è verosimilmente quasi identica Quello che è il mio appartamento Probabilmente grazie alle onde radio Qui mi dice l'operatore e il segnale 4G e 5G L'applicazione mi piace tantissimo perché ci permette di andare a impostare un piano O vedere i giga consumati con i dispositivi collegati fino a 128 supportati potenziali E tra l'altro questa funzione trova la posizione ottimale L'ho trovata davvero pratica perché ci fa un test Ovviamente poi bisognerà eseguire questo test e ripeterlo spostando il router in varie zone della casa Ci permette di capire ovviamente la potenza del segnale nella zona in cui l'abbiamo messo È possibile utilizzare e configurare un parental control E qui poi troviamo delle impostazioni complete per l'ottimizzazione e la configurazione del dual band 2.4 o 5 GHz Eccole qui le impostazioni wifi con la possibilità di andare a modificare la password e anche il nome È possibile comunque utilizzare gli sms anche se avete il pin e riuscite a sbloccarlo La configurazione degli APN anche se è automatica potete farla manualmente andando ad aggiungerlo Come vedete andando a fare uno speed test Vi ricordo che Veri anche sul cellulare ha un alto download, basso upload Questi sono i risultati E adesso andiamo a fare anche uno speed test in altre zone della casa Magari anche nella più lontana Così da vedere anche il segnale wifi Devo essere sincero ho tenuto acceso già diverse ore questo dispositivo E non ho notato un calo di performance che invece ho trovato su alcuni modelli della serie B Dei 4 G dove dopo un paio di ore perdevano prestazioni Il dispositivo nemmeno si surriscalda più di tanto Tra l'altro volevo ricordare che c'è un tasto WPS E anche la possibilità di sfruttare appieno il 5G e 4G Andando a collegare tramite Ethernet una vostra console, tv o altro Chiudo la porta, mi trovo in una stanza più lontana rispetto al soggiorno Vado a ripetere quello che è lo speed test per vedere come si comporta Come vedete il gain è davvero alto Non ho meno tacchette e addirittura vado praticamente identico Veramente assurdo Queste invece sono le prestazioni da PC E vi faccio vedere comunque ha un'ottima ricezione Questa è la piattaforma accedendo a 192.168.8.1 Abbiamo 5G pieno di veri Abbiamo la possibilità di andare a effettuare delle configurazioni un po' più avanzate E avanzate possiamo andare a trovare qualche configurazione in più Che non trovavamo sull'applicazione Davvero davvero interessante con tutta la sezione anche della sicurezza personalizzabile Potete attivare anche una VPN Sono ora andato a inserire una SIM Iliad Anche per fare un altro test Per vedere se automaticamente switcha su IAPN di Iliad E a quanto pare lo fa Rieseguiamo ora il test sotto rete Iliad Sette prestazioni che ho sull'iPhone Quindi almeno nella mia zona veri mobile E' nettamente superiore Valutando il prezzo da 189 euro non è male Tra l'altro si è anche ribassato Valutate che il prezzo del listino era di 350 E ci sono anche router da 400-500 Tra l'altro i router 4G costano 70-80 euro Ma non hanno le prestazioni e la possibilità di switchare tra 4 e 5G Quindi abbiamo più potenziale e soprattutto velocità più elevate Il prodotto come vedete l'ho acquistato Non sponsor o altro Nella descrizione se volete supportarmi Vi lascio il link affiliato Amazon Se avete dubbi o domande Devo fare una prova Scrivetemi ora Come vedete Antenna alto guadagno 9 dB Più mesh più Nella descrizione vi lascio tutto